Dopo il semaforo verde parlamentare sul terzo mandato ai sindaci di demografia inferiore ai 15.000 abitanti, il centro-destra di Urbino si compatta attorno alla ricandidatura di Maurizio Gambini a sindaco. Un valore di continuità sul percorso intrapreso, come spiegato da Elisabetta Foschi, assessora di Urbino, nonché coordinatrice di Forza Italia, che compone una coalizione che viaggia decisa sul Gambini-Ter. Per noi rappresenta la possibilità di portare a conclusione tutta una serie di opere iniziate nella legislatura precedente, ma che in particolare con i fondi del PNRR necessitano di un'ultimazione in tempi stretti, in pochi anni, e credo che sia fondamentale che possa seguire la stessa amministrazione, lo stesso sindaco, che gli ha varati quei progetti. Quindi è stata un'occasione importante e utile che abbiamo colto subito. Per Urbino è una campagna elettorale accompagnata da rivoluzioni, non solo lo che ha il terzo mandato, ma anche il riconoscimento di Urbino, capoluogo di provincia, che allarga la possibilità di giunta fino a nove assessori e a 32 consiglieri comunali. L'essere riconosciuti capoluogo comporta per legge in Italia il fatto di avere un consiglio di 32 e una giunta fino a 9, è quello il massimo consentito. Ed è una novità importante, a parte i numeri, è una novità importante il riconoscimento dello status di capoluogo per il comune di Urbino, perché questo consolida e certifica l'importanza non solo della città, ma anche delle istituzioni, e non solo comunali, che in un capoluogo hanno sede. Il 23 marzo sarà presentata la candidatura di Maurizio Gambini, che darà il via ad una battaglia elettorale col centro-sinistra, che ha invece candidato Federico Scaramucci. Una sfida importante, io credo che quando l'offerta ai cittadini è ampia e si dà modo a ciascun cittadino di ascoltare vari programmi o riconoscersi in qualche schieramento, è un vantaggio comunque per tutta la città. Grazie a tutti.